Questo libro, 90 anni di impazienza, è un'autobiografia intellettuale, un'autobiografia letteraria nella quale io ripercorro tutto il cammino che ho fatto come scrittore e parlo a uno a uno dei miei libri, dei tanti libri scritti nei miei 90 anni di scrittura. Questa è l'autobiografia letteraria. Quest'altro invece è indicato bene dal titolo di che cosa tratta, sono gli umori e i malumori di un comune cittadino italiano di fronte alla situazione dell'Italia come ogni giorno gli viene presentata. E questo gatto un po' ingrifato che sta sulla copertina sta a indicare lo stato d'animo in cui io accolgo questa situazione. Ecco, la punizione che dovrebbe essere data a quelli che hanno rubato i libri, la punizione è di leggerli e di impararli a memoria. Se no, vanno in galera. Quindi devono imparare a memoria i libri che hanno rubato. Questa si chiama la pena del contrappasto, una pena dantesca. Devono imparare a memoria, capito? La punizione è grande, secondo me ci metteranno la vita. Naturalmente tutto questo è un fatto mentale, però detto in parole povere e cercando di spiegarlo nella maniera più semplice il fatto è questo, che il mare non è più quello, il cielo non è più quello, la terra non è più quello e io me lo ricordo e quindi il fatto che me lo ricordo genera in me una malinconia, la malinconia di una perdita irreparabile e questa malinconia si diffonde dovunque e quindi si diffonde anche nella contemplazione di tutto ciò che sta intorno a me. La nostalgia anche di Palazzo Donnanna, la nostalgia di tanti luoghi meravigliosi che sono i luoghi della mia giovinezza anzi i luoghi che io confondo con la mia giovinezza e quindi hanno quell'alone che nella vita di ognuno ha il ricordo della giovinezza. La traduzione che ho fatto dei quattro quartetti di Elliot perché è una traduzione che è iniziata niente di meno nel 1945 attraverso varie prove e attraverso vari periodi finché non è fatta e completata adesso nel mio novantesimo anno ed è stata pubblicata in un'edizione bellissima che poco fa è stata fotografata dall'editore Damiani che è un grande piccolo editore.